Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video dedicato al servizio Lidl Photo Vi ho fatto vedere infatti alcuni dei prodotti che ho ordinato dal sito ufficiale Lidl Photo e ho visto che in tantissimi mi avete fatti i complimenti e che comunque tutto ciò che mi è arrivato vi è piaciuto tantissimo e ho deciso appunto di parlarvene bene in un video per chiarire anche un pochettino come funziona Lidl Photo, se è un sito affidabile, come funziona la spedizione eccetera praticamente andando sul sito ufficiale Lidl troverete nel menu a tendina l'ultima sezione che si chiama foto e lì ragazze è pieno zeppo di prodotti, nel senso che con pochissimi euro si possono creare cose davvero molto carine come ad esempio stampare le foto, creare dei fotolibri, stampare su tessuti, stampare su oggetti naturalmente vi lascio il link di Lidl Photo giù nell'info box ma questo non è un video in collaborazione con Lidl perché già è tanto sa che esisto comunque io ho preso in tutto tre prodotti che vi farò vedere comunque adesso con calma e poi vi dirò bene prezzi e spedizione in primis ho fatto fare la stampa di una foto, proprio una di numero perché mi piaceva tantissimo questo e praticamente è la stampa 10x15 cm prezzo 0,09 centesimi scusate se coprerò alcuni volti, vedete ha un formato proprio più piccolo della mia mano e devo dirvi che vedete i colori sono molto molto carini e abbastanza reali il secondo prodotto che ho poi deciso di personalizzare è questo, ossia un foto quadro su tela la grandezza come potete vedere è 20x20 tessuto in tela finert da 340 grammi al metro cubo montato sul telaio a cunei di 2 cm di spessore c'è questa stampa di questa foto che naturalmente ho scelto io fra la mia galleria personale che vedete è messa tramite questi clip stampare comunque su un qualsiasi cosa che può essere tela in questo caso ma poi vedrete anche l'altra, basta caricare la foto sul sito Lidl e poi si ottimizzerà per metterla appunto sull'oggetto che avete scelto se la foto non è nitida, non rispecchia la qualità eccetera sarete sempre avvisati tramite una finestra dal sito stesso e voi potete decidere di centrare o di spostare la foto, zoomarla a vostro piacimento ho preso poi l'ultimo prodotto, ossia questa foto era per cuscino prezzo 9,99 euro e dovrebbe essere 30x30 e fra tutti questa è la più piccola il prezzo è di 9,99 euro e naturalmente in questo caso non è compreso il cuscino c'è un'altra opzione in cui potete mettere nel carrello non solo la fodera ma anche il cuscino naturalmente delle dimensioni esatte anche qui stesso discorso, potete centrare la foto potete farla più grande, più piccola da quello che ho capito si poteva fare anche in due lati però non ne sono sicura, io naturalmente ho scelto solo questo lato qui e lo sfondo credo sia standard bianco anche in questo caso formare il prodotto è stato facilissimo perché comunque basta prendere la foto, centrarla e la stampa è venuta un pochettino rossa forse dato anche dallo sfondo rosso e dal mio giubbotto rosso però mi era già uscito l'avviso che la qualità non sarebbe stata massima e che dovevo scegliere un'altra foto io naturalmente ho cercato di ottimizzarla e di centrarla al meglio possibile perché ci tenevo proprio ad avere questa foto qui in quanto siamo io e il patatone in uno dei nostri viaggi più precisamente all'M&M Store di Londra Piccadilly Circus finito comunque di selezionare tutti i prodotti vanno nel carrello e da lì potete scegliere tramite il vostro account l'indirizzo mettendo nome, cognome, numero di telefono, cap ecc e la spedizione avviene tramite corriere e ha un prezzo mi sembra di 5 massimo 6 euro però non è un granché veloce cioè nel senso impiega comunque una settimanella bisogna comunque dare il tempo di far stampare le cose tutto immagino quindi un pochettino di tempo ci vuole comunque quando la spedizione parte vi arriverà il tracking sull'email e dopo poco appunto arriva il corriere a casa devo dirvi che i prezzi sono molto molto buoni anche il costo di spedizione non è niente male ne vale la pena e mi sembra che è gratuita raggiunti i 50 euro di spesa o comunque i 49 euro di spesa io in questo caso l'ho pagata perché mi sembra che il mio totale era sui 26 naturalmente fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati con il video al foto vi dico che è un sito assolutamente affidabile potete pagare anche con paypal carta di credito post pay ecc quindi su questo potete stare tranquilli fatemi sapere quindi tutte le vostre esperienze io vi mando un bacio grande ricordatevi sempre di iscrivervi al canale di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video ciao